Con noi c'è un regista candidato all'Oscar, Robin Campillo, un attore, Arnaud Valois, rispettivamente regista e interprete di 120 battiti al minuto. Il film andrà all'Oscar, qu'est-ce che voi sentite? Votre gioia di andare all'Oscar? Per me, c'è vero che ce che mi piace le più nel fatto di andare all'Oscar, c'è che Act Up, c'è stato inventato negli Stati Uniti. C'è l'Hack Up New York, l'Hack Up San Francisco, che per noi erano dei modelli. E quindi abbiamo seguito i loro modelli. E quindi c'è un'esperienza di piacere a tornare negli Stati Uniti, perché ovviamente questa nominazione all'Oscar mette il film molto in luce. E quindi c'è soprattutto questo che mi piace, è il fatto che vi farlo di questo e di questa periodo, anche con gli anciens militanti degli Stati Uniti. Moi c'è ciò che mi piace il più. E ovviamente per gli techniciens, per gli producti, per gli comediati, eccetera, è anche importante che il film sia stato visto là-bas, che sia stato molto exposito, come è stato il caso in France, con Cannes, è stato molto importante per un film che è molto minoritario. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' vero che per noi è stato molto importante di avere questa visibilità. Io penso che il film non sarebbe passato inaperciato, ma sarebbe molto meno stato stato perciato dal grande pubblico se non sarebbe passato da queste stagione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e ora invece con Arnaud Valois, voi siete molto molto, e c'è stato difficile di spogliare in un carattere talmente a costo, se vuole, talmente difficile. Io non ho detto che c'era difficile, e Robin ha tutto fatto per non si mettere la pressione non più, se dicendo che c'è molto grave ciò che vi racconta, ciò che vi racconta, ciò che vi racconta, ciò che hanno avuto un parcours exemplare, o in tutto caso molto forti. Quindi non ho avuto questa conscienza, e potete tanto meglio, ciò che fa anche che il n'y'a pas una capta di plombo come così, molto lourde su il film, sicuramente a dei momenti, per delle situazioni, ma non per nostra interprontazione. e c'è stato proprio con molto piacere, che ci siamo tutti, penso che posso parlare al nome di tutto il mondo, di questa storia e in questo ruolo di queste persone. Abbiamo avuto tutta la gioia che questo gruppo poteva apportare, sia apportare a lui-même e ciò che apportare a noi. E' bella, bella, e tutto il meglio. A tutti i dei, tutto il meglio. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.